La Società Italiana di Radiologia Medica Interventistica, la SIRM, anche quest'anno ripropone la giornata nazionale della radiologia senologica con lo slogan Senologia per te. Su sito SIRM è possibile reperire linee guida per tutta l'attività ambulatoriale pubblica e privata dove sono richiamate le norme per garantire a tutta l'utenza l'accesso in sicurezza presso le proprie strutture.